Buongiorno, io domandato fontana. Tu fai così, le cosa semplice, tuttalli, camber, camber. E domani faranno, jovene artisti c'ergano di fare, poi firme ranno. E state sorrisate, lo so, ma loro quando tagliano, dopo tre, quattro anni, tutti sono da se stessi, disappear. Come si dice? Si perde, si rovina. Questa, come si dice? Mi sono dimenticata, Dio mio. Tagliata e stoffa separata. Ma dopo cinquanta anni, quello che ha fatto, tutti riuniscono insieme. Insieme non possono fare i miei quadri ripetizioni. Non è possibile, mi ha detto. Insomma, così ho saputo che si capisce subito quali erano le fontane, quali erano le altre persone. No, così. Non, come si capisce.